Termina con l'estradizione verso l'Italia la latitanza di Temesgen Gebru Gebermedin, 35 anni, eritreo, ricercato da oltre un anno in campo internazionale con Red Notice per associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo, tra i capi e promotori di un'associazione a carattere transnazionale operante tra il centro Africa e i paesi del Maghreb, l'Italia e il nord Europa, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla commissione di altri gravi reati, organizzava la rotta terrestre dei migranti dei paesi del centro Africa verso la Libia per poi proseguire il viaggio verso le coste del Mediterraneo con meta finale il nord Europa. Gebermedin è stato arrestato all'aeroporto internazionale di Addis Abeba mentre cercava di imbarcarsi su un volo diretto in Australia con destinazione a Delaide. L'uomo viaggiava con passaporte australiano in quel paese, vi sono altre articolazioni criminali dell'organizzazione. Dal momento dell'arresto una rapida definizione della vicenda ne ha determinato l'oderna estradizione verso l'Italia. L'indagine nei suoi confronti è stata coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai sostituti Calogero Ferrara e Giorgio Arrighi della Procura di Palermo e condotta dalle squadre mobili di Palermo, Agrigento e dal servizio centrale operativo della Polizia di Stato.